È nata che passando tutti i giorni qua per andare al lavoro vedevo sempre questo spazio bianco però mio papà, un ex giocatore della Ternana, della Primavera, mi raccontava sempre delle sue partite che giocava all'interno di questo stadio, con la Roma, la Lazio, mi raccontava di tante persone allo stadio e così sono iniziato a documentare, ho telefonato a Daniel dicendo che facciamo un murale su questa parte per ridare insomma un senso a quello che era stato e per riuscire poi comunque sia a far apprezzare le nuove generazioni dove ha mostro i primi passi la spazio della Ternana. Sì, allora è importante che però venga detto che non è solo merito mio, qui c'è una delle ragazze, Sofia e anzi se non fosse stato per le mie allieve tutto questo non sarebbe potuto essere fatto l'idea come ha già detto Luca abbiamo lavorato insieme per la realizzazione del bozzetto l'abbiamo presentato, è piaciuto e ci sono stati comunque dei ritardi non dovuti a noi ma dal sole comunque è stato abbastanza sfiancante da due settimane ci dovevamo mettere, ci abbiamo impiegato un mese però pensiamo di aver fatto comunque un buon lavoro capitava che gli operai dell'acciaieria entravano, uscivano altre persone e loro ci hanno dato molto sostegno, anzi a volte si formavano anche dei cori per invogliarci a dare il meglio di noi. La fase più delicata è sempre l'inizio qui ancora di più perché è stato dato dalla grandezza la superficie della parete e inizialmente appunto poi non ci aspettavamo questo caldo e quindi la fase delicata più difficile è stata appunto l'inizio poi alla fine comunque abbiamo ben capito quello che dovevamo fare è tornata Sofia perché si era presa in periodo di vacanza e lei è il mio asso nella manica che è stata con l'energia in più e abbiamo terminato lunedì sera verso le 7 il messaggio comunque questo non deve essere più che altro una vetrina per ciò che noi siamo riusciti a fare ma più che altro un simbolo per i ternani per ciò che tutti quanti noi possiamo riuscire a fare per ciò che noi siamo riusciti a fare